Ciao ragazzi, oggi è il 16 aprile e sono le 9.58 di mattina, adesso stiamo per sistemare tutte le colazioni che abbiamo fatto stamattina dobbiamo essere a posto tutto insomma, guardate qua il portapane che vi avevo fatto vedere qualche giorno fa che l'hanno montato io sono qua con la madre, invece il Lukez è all'agricampeggio e col padre che stanno mettendo giù la gocciolante intorno alla siepe insomma un po' come vi avevo fatto vedere ieri solo che ieri stavano scavando con il badile eccetera oggi invece proprio devono mettere il tubo oggi? cosa si fa oggi? cerco di portarmi avanti un po' di cose e dopo dobbiamo sistemare un po' la sete è arrivato il giardiniere, adesso porto la telecamera a mio fratello oggi è proprio una bella giornata, c'è un sole potente vorrei anche ringraziare mentre vado in là tutti i nuovi iscritti cioè nell'ultimo mese in pratica ci sono stati più di 4.000 iscritti grazie davvero a tutti quanti, spero che questi video vi piacciono, questi aggiornamenti giornalieri a volte sono più veloci come quello che ho fatto ieri cerco sempre di raccontarvi insomma nel migliore dei modi e quello che succede all'interno della nostra azienda va bene dai, adesso passiamo la parola a Lukez ciao Lukez, hai guardato la telecamera? ma scusa avete già sistemato tutta la gocciolante qua? si, ho fatto tutto basta andiamo a casa dai su ogni tubo vuoi mettergli questa fascetta qua ah bisogna chiudere i tubi, ok cosa servono queste lì? ah li metti lì in mezzo dove c'è il pa... ah dai, arriva da là e poi si divide e com'è che si installano questi qua? bisogna aprirli? al contrario, no funzionano storti in che senso? devi metterlo dentro quando è così e poi lo stringi andando in su, vedi? ah il signore stringe adesso lascio la telecamera a Lukez spero che sia un buon regista se lo è stato alla fine del video scrivete regista potente all'interno dei commenti ciao Lukez ti affido la telecamera ah così metti dentro e dopo restringi ma dopo per fissargli a terra il tubo lo lasci lì e basta si dopo averlo disteso e collegato qua o qua? a metà dai via delle facette qui a mezzo difettate e allora anche te perché usi quelle mezzo difettate? che mi sono accorto qui? ho tolto sul sacchetto e quelle che non cammina il gancetto ce l'ha? no, via dai si sente il cri cri? no, questo sì, ma l'è meglio perché? eh, anche te ti tienilo cioè, mi dici tira devi tenerlo se devo tirare questo lavoro si può dividere diciamo in tre lavori principali quattro se si può dire adesso ve li faccio vedere uno a uno allora come prima cosa dobbiamo distendere il tubo per affinché si possa uscire l'acqua perché vedete è un buco forellato ogni tanto si chiama gocciolante come seconda cosa c'è il padre che sta attaccando diciamo le giunzioni quindi gli attacchi a T che ci sono e vabbè vi faccio vedere come si farà e finire la lunghezza giusta finale diciamo di tutto il tubo per poi andare a chiuderlo bisogna adagiarlo lungo tutte le piante se ci sono degli ostacoli tipo questo sicuramente non li passiamo sopra quindi la cosa ideale sarebbe quella di fare un buco profondo anche 10-15 cm neanche e poi infilarlo sotto questo è diciamo il terzo punto dove noi andremo ad agiare tutto il tubo lungo la linea perimetro quello che è che abbiamo appena fatto che fa dai dai dire l'ombrio là no che ci sono Ok, ok, ok. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bene, come ultima cosa dobbiamo mettere questi per fissare il tubo al terreno così non si smuoverà. Io ne mettiamo un paio ogni lato e poi ci faranno tutto il perimetro lungo. Comunque poi questa sieppe crescerà sicuramente fino a questo punto qua. La polta compatta, crea quasi un muro diciamo, avremo alto un po' più di meno. Intanto se volete vi faccio vedere anche qui che sono andati avanti un attimo, proprio un minimo, quei lavori, cioè che hanno messo la doccia. Guarda, una doppia doccia che si può scegliere per usare quella cascata da sopra, questo spruzzo che può muoversi dove vuole. Eccola. Vabbè, andiamo di là a vedere che cosa stanno facendo il padre e lo zio che non ha capito. non l'hanno messo a livello del terreno. Quindi di conseguenza, cioè non perfettamente perché non si poteva sapere. Ci sono quel po' di cose per sistemare a livello come quel tombino là, come questo altro spiaccino, come anche questi due tombini qua perché così diciamo evitano di andare sottoterra e poi anche l'acqua che viene giù da tutto il monte, anziché prendere e andare dentro la piazzola magari rimane sulla parte destra qua e va a finire là nel vigneto, nella parte sotto. Si, il rimamo il rimanere. Allora, hai un'altra parte qua, dai, arrivate qui, dai, arrivate qui, dai, arrivate qui, dai, arrivate qui. Che facciamo? Ci facciamo? P casa, ieri, lascia, magari, che facciamo? Bene, adesso lo mangi. No, adesso lo mangi, va avanti. Poi, qui. Allora, è poi. Da, 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 da. però l'ultimo prima di metterlo lo devo chiudere con la fascetta non è vero non si che è un po' attragete si è un po' attragete si è un po' attragete oh no Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie a tutti Grazie a tutti Lugues dai sveglia Lugues Ma senti che aria che c'è Là le nuvole sono abbastanza potenti Luca che ti volano via le calze È pomeriggio Questa mattina dopo essere stato in agriturismo Ho anche finito di editare il video Che uscirà sul canale principale Solo che essendoci anche un unboxing Molto importante all'interno Devo aspettare l'ok Da parte dell'azienda che me l'ha mandato Lo vedrete forse domani O forse giovedì Adesso vediamo Adesso sono qua con Lugues Non so se avete capito da quello che vi ho spiegato prima In pratica i tombini che vedete qui sotto Sono troppo bassi rispetto al livello del terreno E quindi per metterli pari Adesso stiamo costruendo Una specie di mini muretto Con i mattoni Per rialzarli un attimino Dobbiamo evitare che l'acqua ci vada all'interno Quando piove Il padre intanto è andato a fare Proprio la malta Adesso si costruisce Inizia la posa Invece io adesso andrò a breve Da giardiniere che sta sistemando il terreno Con l'escavatore Capire se gli serve una mano Inizia la posa Ok il puzzetto sistemato Adesso dopo averlo messo in bolla Metteranno anche la terra intorno In modo poi da richiuderla Però mi sa che prima aspettano che si asciughi Allora ho provato col giardiniere Ha detto che per il momento Non ha bisogno di aiuto Cioè anche durante la giornata di oggi Infatti sta spianando per bene Cioè sta pestando il terreno Perché invece domani mattina Verrà a seminare Ci sarà l'idrosemina Ma quella la farò vedere sul canale principale Probabilmente E magari qualche clip proprio veloce Ve la farò vedere anche qui Però la maggior parte sul canale principale Ha detto inoltre che dobbiamo prepararci bene Con l'impianto di irrigazione Perché poi quando l'erba è piccola Bisogna irrigarla quasi subito Soprattutto in questo orario qui Dove c'è il sole potente Che rischia di seccare poi La piccola erbita che crescerà Allora il padre va avanti A mettere giù Cioè sistemare i pozzetti Insomma io e Luca Invece iniziamo a posizionare I tubi della gocciolante Nella parte superiore Quella vicina alla piscina In pratica facciamo lo stesso lavoro Che hanno fatto loro stamattina Però nella parte superiore là Piccolo cambio di programma Perché gli idraulici ci hanno detto Che prima dobbiamo scavare Dove ci sono tutti gli irrigatori Dei giardini Per esempio qua sotto Ce n'è uno E poi spostando la terra È stato sotterrato Quindi dobbiamo scavare Tutto intorno Liberarlo E poi loro metteranno Una specie di prolunga Per alzarlo A livello del terreno Un po' come hanno già fatto qui Con questo Vedete Ma comunque non credevo Che l'irrigazione Richiedesse così tanto Lavoro insomma Guardate qua invece Ha iniziato a mettere I lavandini esterni Ok ragazzi Badile trovato Adesso si inizia a scavare Ma che vento c'è Che vento c'è Adesso si inizia a scavare 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 Un po' come e allora questo è un lavoro difficile non perché bisogna scavare ma perché bisogna stare attenti dove si scava nel senso che non bisogna rompere il tubo che c'è sotto ovviamente tipo come questo qua lì ah dove vedi il tubo ho capito quindi devo scavare ancora un po' nel mio devo andare un po' più in giù in modo che riescano a prendersi sul tubo pulito per bene fino in fondo costiamoci nei prossimi irrigatori no ma lì c'è c'è il getto lì in più avanti il padre si agita già perché in pratica c'è un getto che non troviamo c'è il segno che in teoria dovrebbe essere in quel punto lì però non si trova sotto ma è troppo vicino cioè secondo me è stato spostato in un altro punto lì non c'è dai ma è troppo vicino quell'altro è impossibile che sia chi è che gliel'ha messo? che è il dio mio so che ieri avvicini che il parchei ha fatto una linea diversa ah ma allora ok eh Luca l'ha guardato veloce e ha detto che non c'era getto ho trovato gettino allora ragazzi è sorto un ulteriore problema nel senso che ci siamo accorti cioè abbiamo notato che il terreno qua in questa parte qui vicino alla piscina vedete lì che c'è la piscina e in pratica fa una specie di conca quindi dobbiamo dare questo qua sarà tutto giardino più avanti non verranno messe le casette mobili in questo punto e quindi dobbiamo o scavare ulteriormente per renderlo più pianeggiante oppure aggiungere terra adesso mi sposto un po' in là così potete vedere la differenza di livello ecco ecco adesso si dovrebbe vedere meglio è un po' troppo bassa o un po' troppo alta il padre è andato a prendere una palata di terra da mettere dove? da mettere lì ma beh cos'è lì? qua bisogna abbiamo optato ci siamo confrontati io e Luca e se il padre abbiamo optato per abbassare il terreno cioè perché se no là il dislivello diventava troppo grande quindi lo facciamo direttamente qua e poi portiamo tutto a livello fino là però prima dovrà fare il lavoro l'escavatore adesso il padre sta riposizionando il terreno vicino ai pozzetti a più alzati rispetto a prima così appunto l'acqua non tende a entrare però che quando verrà da piovere adesso è un po' di raccolta sassi domani infatti vengono a seminare bisogna che sia bello pulito o no Lughe e avanti così perché domani si semina anche se qui intorno alla piscina mi sa invece che mettiamo il tappeto erboso comunque sempre bisogna tirar via tutti i sassi cos'è che devi fare? fermiamo il sigillo no perché è ancora mobile velo lì fermiamo il sigillo che vuol dire? che ne so io pensavo fosse già fisso allora adesso dobbiamo fermare appunto il sigillo come penso abbiate capito quindi bisogna pulirlo per bene dalla terra e dopo vi farò vedere due nuovi attrezzi insomma vi devo ancora far vedere l'unboxing ma più avanti ve lo farò vedere questo è un trapano barra avvitatore ma noi lo utilizziamo come trapano visto che è quello un po' più grandino e quest'altro quest'altro invece lo usiamo come avvitatore è un po' più piccolo ma è potente dobbiamo metterlo in squadra con la casetta cioè con il cemento insomma della casetta parallelo ecco no è ancora corabina mentre noi stiamo facendo questo lavoro adesso gli idraulici provano cioè regolano i getti all'interno dei cioè gli irrigatori insomma all'interno dei giardini devono controllare quali sono le zone eccolo qua ok sta andando l'impianto a guccia e poi vediamo se fanno anche i getti si stanno accendendo i primi irrigatori dalla parte di là sono là in fondo e adesso gli idraulici li stanno regolando credo sia il flusso sia la direzione com'è che funziona con quella chiave lì regoli la potenza e la direzione se questo abbassi una brugola che rompe l'ugello rompe il getto diciamo rompe il getto allora si accorcia o si allunga ecco l'altro la direzione cioè dove bloccarlo no la direzione la regoli da qua eh sì sì da qua gli dai il raggio ok e là invece la potenza e qua sì la lunghezza diciamo cosa stai facendo? adesso ti faccio vedere che dopo migliora a finirli il padre ha preso un sacco di tubi che non so cosa bisogna farcene dove li porti? veni a vedere andiamo a vedere dove fa lo scavolo? ho messo quel tubo qua e fa passato dentro quello lì perché? perché l'ha detto così l'idraulico cioè dove passa il tubo dell'impianto a goccia questo qua marrone vedete? in pratica lì ci sarà l'entrata della casetta cioè questo qua è il giardino della casetta qua ci sarà una specie di cancello e quindi qua in pratica bisogna farlo passare sotto ha scavato leggermente bisogna farci passare il tubo marrone dentro all'interno di quel tubo che ha portato qua il padre adesso segna dove fare i buchi nel cemento nel pozzetto e dopo li fa ci passa d'ora dopo? c'è lì ma è portata? sì la vuoi portata eccola là boh tira mettila una cosa? è portata è portata è portata adesso dobbiamo mettere giù i tubi nelle siepi tutto intorno alla cucina noi abbiamo finito il lavoro per oggi e se siete arrivati fino in fondo al video fatemelo sapere scrivendo tubi potenti non so se l'avevo già detta sta cosa comunque tubi potenti facciamo che ogni giorno adesso vi consiglierò un video del canale principale da andare a riguardare e magari anche di quelli passati se volete questa sera vi lascio questo buona serata a tutti